I just wanted you I just wanted you a bucciato E adesso ci è qui Siamo tornati a non giocare tutto Come andai in tendenza Regà, la serie che voi, voi Una delle serie più seguite sul canale Finalmente dopo mesi, mesi e mesi E arriva di messaggi Io, prima di inserire il video, come sempre Saluto gli ultimi due che mi hanno commentato L'ultima foto su Instagram Anzi, oggi per farvi contatti saluto gli ultimi tre Vi ricordo come sempre qui sotto nella descrizione Il link di Instagram, mi raccomando, passateci E, 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 e Gli ultimi tre che hanno commentato la foto Sono Lorenzo Martini, Pippo Goblin e Eren Zalan Bella regà Quindi noi adesso, senza avere nessun tipo di bloccaggio Partimo con come andare in tendenza Arrivederci Saravagliatato alla Guardate che c'è Che su YouTube ormai abbiamo fatti iscritti Su Instagram comunque stiamo a spingere Però su Instagram che possiamo fare per andare in tendenza Ma è venuta l'ideona Oddio Pingiamo di essere spariti nel nulla Per poi tornare dopo mezz'ora Così Così in quella mezz'ora la gente cerca solo l'ora Perfetto Perfetto Già ce l'ho Già ce l'ho la storia Che di Che posso dire Ok Anzi no Lo faccio dire da qualcun altro Almeno Pensano pure che ho perso il telefono E non sanno come rintracciarmi Però poi me ne chiamano Oggi ho un altro giorno in cui non cambia nulla In cui chi non ha nulla Si sveglia e rinuncia Una vita normale Un lavoro normale Una tipo Una casa Un bambino ed un cane Le strade hanno fan Certo che però sto grande fratello Non lo so Cioè Vai sulle tendenze Vedi Non lo so Vedi Cioè ormai Vedi solo quello nelle tendenze Non Vedi solo quello nelle tendenze Prima volta Per la prima volta a fare le cose per i musical.ly Oggi andremo a vedere i musical.ly dei miei fan Perché queste sono le mie fan Quelle più svegatate, quelle più yeah E per forza dobbiamo andarle a vedere perché ve lo ci aspettano E arrivederci Ok questa è la nostra prima fan Perfetto Più fan di così Non esistono Più fan di così Va bene pure il mutabile Ah è così perfetto Queste sono di 2 e 3 Eh le culo si Vai Di nuovo culo Eh va bene Brava bravissima La maglietta dell'airas Ma come ho dato arriva La culo si Ok si Ah però dobbiamo Dobbiamo Ok dobbiamo Allora Ricominciamo Dobbiamo essere un po' più Un po' più arrapati capito Perché la gente piace Ok regà partimo Ci siamo Ok Ecco la nostra prima fan Brava Si Si muove benissimo Brava Ah Ah Capito si Bravissima Mi sei piaciuta Questa si fa Provede tutto Bravissima Altra fan Si 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 muove benissimo Una favola Brava Brava Si Eh ragazzi Io non so come faccio Far come però Continua Continua Non è un problema Non è un problema Tutti Non so se questo video Lo faranno mai vedere Su youtube Però Non va bene Perfetto ragazzi Ecco Queste erano le nostre fan Mi raccomando Se vedete su musical.ly Che non ho Mandatemi tutte le vostre Video Arrivederci Ai mortacci I vostri Tessi zoccoli Vostri e padri Insessani pizze Che vedrai I mortacci Mondo cazzo Stanno i genitori vostri Ragazzi Il modo per andare In una tendenza Veramente Esiste Ed è esattamente Fare Come lui Fumo canne All day Ciao dio No 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 Non dovete fare proprio come lui Perché non è una Però se vuoi fare come lui Sicuramente ci andate Ne tendenze Io non avrei mai voluto Arrivare a fare ciò Però Questo è come andare in tendenza Quindi ragazzi Vi prego di prepararvi Un cambio Perché non Tratterrete l'emozione E niente Ho rovinato tutto La sorpresa Che stavo Progettando Da mesi Arrivederci Prego Forte E sempre lo stesso Potrei fare come loro Fare come loro Finge spinner d'oro Fare migliaia di più Ma se ne sono Quindi ragazzi Io ve lo ripeto Dovete diventare Dei Trapper Arrivederci Non sono mai stato Come quelli là Figlio di puttano Figlio di papà Non mi è mai mancato Nulla a parte il cash Quello che non avevo Me lo so preso da me Che stavo Che stavo